stavo dicendo la partita del milan è andata in scena una un'ennesima partita scandalosa perché il milan ragazzi miei va a fare una partita a roma vergognosa un primo tempo che è stato vi giuro ma compresa anche quello della lazio uno dei primi tempi più brutti della storia della serie a recente e il secondo tempo quando il milan rimane per lunghi tratti del secondo tempo in superiorità numerica il milan ha rischiato di perdere la partita essendo in superiorità numerica il milan ha rischiato di buttare via la partita allora quando io dico che non chiedevo di battere questa inter perché questa inter già da settembre si era capito che era superiore a tutti io chiedevo chiedevo di stare vicino all'inter e qui posso spiegarlo bene senza essere interrotto io chiedevo di fare tre punti a salerno e non uno chiedevo di fare i punti con l'udinese in casa e quindi erano tre punti di non perdere due punti dopo essere stato in vantaggio 2 a 0 a lecce vi sto citando partite dove ho la rosa per farli quei punti non non sto non cito mai l'inter l'atalante la juve perché quelle sono partite che puoi perdere lì ti puoi appellare alla rosa manca qualcosa eccetera non mi sta bene che la gente parli di rosa quando tu butti i punti con queste squadre qua quando tu due anni su tre non vinci con la salernitana quando tu due anni su tre non vinci in casa con l'udinese e tu con queste partite qua più monza avresti oggi avuto un bottino di 10 punti e con 10 punti più saresti stato a meno 6 dall'inter con un derby da giocare quindi bastava veramente poco per essere ripeto non vincere lo scudetto ma farglielo sudare un po di più invece no invece no tu i punti li hai buttati e non li hai buttati per la rosa perché poi mi dite sì l'inter con genoa e sassuolo ha perso i punti sono d'accordo con il bologna e sassuolo ha perso i punti sono d'accordo con voi ma parlate di due partite su un campionato perfetto il milan oltre queste che ho citato perde con la juve perde con il napoli perde con l'atalanta perde con pareggia con il napoli perde con con l'inter e soprattutto e soprattutto tutte le partite che ha vinto il milan le ha vinte giocando male perché il milan in stagione e ve lo e chiudo fa tre partite positive paris saint germain lazio all'andata e atalanta domenica atalanta che superato l'uno a uno con noi che non siamo riusciti neanche a vincere ha preso sei gol in due partite e non ne ha vinta una questi sono i numeri reali questo è il vero percorso del milan poi se volete credere alle narrazioni che fanno i giornalisti per proteggere pioli credeteci ma questa è la vera situazione vergognosa del milan quanti punti però avrebbe fatto con una squadra tra virgolette come fanno i buffoni con degli infortuni normali cioè come può capitare a tutti insomma lasciamo stare i casi berardi poverino diciamo con gli infortuni dell'inter ne avrebbe fatti di più però non posso far passare il concetto che questi infortuni che avvengono avvengono da quattro anni con la media di infortuni non avrebbe fatto più punti al completo questo milan una colpa non è una scusa si no no però è una coppa ma è anche un altro argomento io mi aspettavo un milan che avrebbe battagliato con l'inter quasi fino alla fine nel senso che poi ero sicuro che l'inter fosse più forte però dai la difesa andare a andare a riprendere gabbia andare a riprendere certi calciatori ma potevo posso chiedere che si vinca con la salernitana posso chiedere questo ripeto io io la partita storta l'inter ha perso catania come regno io ripeto maestro con l'inter io mi posso appellare che ho perso 5 a 1 quello sì mi vergogno che ho perso 5 a 1 ma se avessi perso quel derby 2 a 1 3 a 1 e amen l'inter è più forte hai perso che ci devi fare hai perso fai la tua analisi della partita hai perso ma io non posso accettare che due anni su tre pioli non vince a salerno perché due anni su tre pareggia al novantesimo a salerno e due anni su tre perde le partite con l'udinese ma che stiamo ma stiamo veramente dando i numeri che sta passando come miracoloso come una stagione positiva perché ha eliminato il ren in coppa uefa il ren ha pareggiato col paris saint germain ma domenica penso colori fa schifo è una squadretta ma ma quello che passa è che pioli arriva a ottobre no l'anno dopo fa un secondo dopo un posto dopodiché con una squadra che non parte favorita vince il campionato poi si fa una semifinale di champions e con la storia della juve riesce comunque andare in champions quest'anno in effetti a rivedere i filmati doveva partire per vincere perché poi dichiarno quello tu confermi no lo dichiarano nello scudetto sì sì lo dichiarano fino a mese scorso tra l'altro il milan perché non tutti si ricordano a un certo punto non avevano usato il termine ingiocabile ma guarda che il termine usato per Roma milan è vicino mai qualcuno non so se era non era io vorrei la gazzetta di quel giorno dopo Roma milan l'ho cercato un sacco di volte perché c'è un trafiletto che non dicono milan ingiocabile ma tipo neanche imbattibile c'è un altro vabbè aggettivo che usano ma è simile a questi perché il milan va a bologna contro questo bologna ti ricordi io ero ancora al lago a fare il bagno il milan prima del derby fa un buon percorso prima del derby infatti la mia previsione poi quando i derby nascono male lì approcciato male poi si è subito messo bene per l'inter perché il milan poi fa il 2 a 1 e rimane il 2 a 1 fino al sessantanovesimo settantesimo no quindi bene o male comunque nell'unica azione nell'unico modo in cui può far gol il milan il milan lo fa che darmian rincorre leao scende la solita la solita gol alla milano e però il milan con il bologna con il toro e con la roma mi pare c'è il bologna il milan va a bologna io ricordo che l'ultimo giorno che ho fatto in spiaggia qua tornavo e dicevo che cazzo meno male che sono rimasto di più a sto cazzo di lago perché tanto come la storia di vista no maestro anche lì con il bologna il bologna prende una traversa al primo minuto eh mi ricordo no si colmina fa anche tanti tiri più o meno fa due a zero sbaglio poi va a roma contro la roma che ha fatto la finale che ha perso perché morigno dice che con la coppa in realtà la vinta e tram poi col toro lì mi pare che c'è un episodio un fortunato però comunque poi eh non è che hai battuto la 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 salerità ok al derby però vienge tutto a Roma ha un potenziale che ha dei calciatori che sono capitani che è più del mondo eh lo stesso Torino è una squadra che non è una squadra che quando la incontri è agevole però possiamo dire che una cosa è incontrare il Bologna la prima giornata una cosa è incontrarla adesso con la consapevolezza di adesso una cosa è incontrare la Roma con Lukaku che era appena arrivato da due giorni partiva dalla panchina una cosa è incontrarla adesso senza assolutamente sì però attenzione no però un Milan che ha fatto molti cambi quindi anche il Milan non è lo stesso perché il Milan deve inserire giocatori che Reinders parte subito in quarta e viene subito esaltato mentre non so l'off to chic ci mette un po' di più però maestro scusi scusi un attimo perché devo fare una chat Gesù e Brigidini 84 io penso di parlare italiano allora voi dopo il discorso che ho fatto non potete scrivermi sì ma vuoi paragonarti all'Inter ma cazzo l'ho appena detto ho detto ci sta a perdere con l'Inter perché l'Inter è nettamente più forte dov'è che mi voglio paragonare all'Inter io chiedevo di fare i punti con squadre con le quali il Milan è adeguato a fare punti mi stava bene magari poteva scappare un Udinese ma non scappare l'Udinese il Monza Lecce e tutte quelle che ho elencato prima e Brigidini che mi dice sono due anni che non vinci nemmeno con l'Inter te lo ripeto non mi sto paragonando all'Inter poi mi dite hai una rosa che è la metà dell'Inter e lì vi dico che io non sono tanto d'accordo nel senso che sì sono inferiore all'Inter e lo riconosco però occhio perché voi siete obnubilati da quello che vedete perché l'Inter oggi è questa ma l'Inter ci è arrivata col lavoro ad essere questa col lavoro del dell'allenatore di tutto lo staff perché l'Inter l'anno scorso si toglie due punti col Milan l'anno prima si toglie due punti col Milan quest'anno gliene toglie 20 e questo è frutto di lavoro perché l'Inter ha comunque perso Brozovic a Unana Lukaku non è che ha preso Mbappé e Oland quest'estate ha lavorato cosa che il Milan non ha fatto o meglio ha fatto male è semplice tu su casi arbitrali vuoi chiudere il discorso Lazio Mbappé